I controlli di sicurezza e gli imbarchi sono al piano superiore. Per raggiungerli, prendete la scala mobile da questa parte. Per maggiori informazioni, toccate il mio tablet. Per maggiori informazioni, toccate il mio tablet. E quando i miei occhi sono blu, facciammi una prova. Stai a cercare un metro di distanza. Guardami negli occhi e dili ok quando diventano blu. Ok. Perfetto. Andiamo avanti. Posso parlarti un po' di me? Vai, sì. Sono un robot umanoide progettato in Giappone per comunicare con le persone e aiutarle. Ho due telecamere negli occhi che mi permettono di vederti. Riesco ad accorgermi se qualcuno si avvicina o se c'è un ostacolo davanti a me grazie ai sensori che ho su tutto il corpo. Guardami bene e dimmi di che colore sono i miei occhi. Tre, due, uno. Troppi colori. Gialli. Oggi sono in vena di fare scherzi. Eh, gialli. So anche ballare. Vuoi vedere? Vai, sì. Vai, sì. Vai, sì. Guardami. Ok. Grazie a tutti. bravo! cosa ne dici di fare un selfie? si vai